Salve a tutti e bentrovati a TCG Television. Siamo qui con LEGO Minifigures per l'ultima ormai sbustata di LEGO Minifigures serie 11 vista l'imminente uscita della serie di LEGO Movie. Dunque apriamo quest'ultima bustina di serie 11. Abbiamo qui il Folletto di Natale, ormai siamo un po' fuori tema. Magari avremmo dovuto aprire la prima questa bustina, però lo manteniamo per il prossimo anno. Ecco l'elfetto del Natale con i regali da incartare o già incartati. Ok, forse è il caso di metterlo qui e questo qui. Ecco qui l'elfo di Natale, come vedete ha le gambe, quelle corte che non si possono muovere, statiche. Vestito semplice, dietro, neutro, senza pitture e davanti con una semplice pittura con cinta e giacca. e ben due gadget, un orsetto e un pacco regalo. Ciao a tutti e grazie.